Ora siamo qua all'Italo Ferrando di Cornigliano con Enrico Aschieri, direttore sportivo della Genova Calcio e mister Luca Tabbiani. Allora sono uscite già dalle voci e la Genova Calcio si è riservata di prendere una decisione su una ottima offerta che ha ricevuto mister Luca Tabbiani. A questo punto credo che sia doveroso verso il movimento dilettantistico genovese Ligure dire come stanno le cose. Sì, io credo che in questi momenti la verità è quella che è meglio dire, non c'è nulla da nascondere. È stato contattato da una società importante di serie D fuori regione, una gloriosa società che è caduta dai dilettanti da qualche anno, che ha ambizione. Luca ha detto che lui aveva già un impegno e quindi gli ha detto che se dovranno parlare prima con la società perché sennò lui non avrebbe assolutamente affrontato un argomento con loro in maniera corretta. Quindi il loro direttore mi ha contattato, mi ha spiegato quello che era il loro progetto, si è scusato perché non lo sapeva che Luca aveva già un impegno. Io ho detto che mi sarei riservato in 24 ore di parlare con Luca e capire un po' quali erano anche le sue voglie, le sue aspettative. E visto che anche il progetto è interessante, l'hanno spiegato sia a me che a lui, sicuramente per Luca che di questo ne fa un lavoro, è anche un'occasione importante. Non ci siamo sentiti, io in prima, ma alla società di non liberarlo e quindi a fronte di questo abbiamo voluto, per questo credo che gli aspetti umani vadano oltre il calcio, oltre cose. Quindi su questo ci siamo sempre, a differenza di altre società che in questo momento magari stanno anche, tra virgolette, facendosi quattro risate per il cambio del mister che dovremo fare. Su questo noi crediamo che i valori umani vadano oltre, personalmente l'ho sempre sostenuto e continuerò a sostenerlo a discapito di tutti. Quindi senza problemi, anzi diamo l'imbocca al lupo a Luca e ci auguriamo che da lì sia un trampolino di lancio per poter farne di questo anche categorie superiori. Ecco, io personalmente in questi 15 giorni ho avuto a che fare con mister Tabbiani e devo dire che ho trovato un ottimo professionista e una persona splendida, un grande uomo. A me dispiace moltissimo che tu vada via, però è chiaro che nella vita si fanno delle scelte, credo che ti porteremo nel cuore per questi 15 giorni e spero che la cosa sia reciproca. Ma guarda, a parte che grazie per le parole che hai detto, ma in generale sono stato bene qua per il tempo che abbiamo lavorato, ho lavorato molto bene con Enrico e non smetterò mai di ringraziare la Genova Calcio per l'opportunità perché si sono comportati appunto da società umana ed è un valore importante da trasmettere sia in tutto il settore giovanile che ha la Genova Calcio, che è grande, sia proprio nel calcio dilettantistico. Per me è un'occasione importante, ne ho parlato con Enrico più di una volta, cambio regione, mi metto in discussione in un altro contesto, in una società molto importante con un altro direttore sportivo che stimo parecchio già da prima di questa chiamata e quindi è stata una scelta difficile perché appunto stavo lavorando bene con la società Genova Calcio in generale e con Enrico soprattutto, poi il fatto comunque di andare via di casa da allenatore è un po' la prima volta, però penso che possa essere un'occasione importante per me e soprattutto ho la voglia di mettermi in discussione in un contesto un po' diverso, però la cosa che ci tengo a puntualizzare è che a volte se ne sentono tante ma la Genova Calcio è una società corretta, a modo, con la quale si può lavorare bene. Non si hanno magari questi budget incredibili da poter fare voli pindarici perché preferiscono essere corretti e fare le cose per il verso giusto, ma c'è la possibilità di fare un buon lavoro e lo auguro con tutto il cuore. Bene, a questo punto noi ti auguriamo in bocca al lupo, guarderemo i tuoi risultati tutte le domeniche e sicuramente tu guarderai i nostri. Sicuramente perché, vi ripeto, mi auguro che questa società possa crescere come ho capito il potenziale che ha e mi auguro che possa crescere per quello che stanno facendo come lavoro Enrico e gli altri soci della società. Bene, grazie a tutti e in bocca al lupo nuovamente.